Allora, per la repartizione del San Marzano stiamo usando un barattolo di 2,5 kg, una confezione di 2,5 kg di San Marzano, noi usiamo 35 g di sale. Il sale, prima di essere mescolato insieme al San Marzano, lo sciogliamo a parte. Poi andiamo a mescolare il sale che abbiamo sciolto insieme al San Marzano restante, poi cominciamo a scacciarlo con le mani. Noi non usiamo né mixer né frullatori, poiché l'azione del mixer andrebbe a surriscaldare il San Marzano. E quindi, già in passato a Napoli, si è sempre usata questa tecnica a mano. E quindi noi, per rispettare la tradizione, continuiamo così. E' importante che il San Marzano venga schiacciato in modo omogeneo, nel senso che non ci siano né pezzi troppo grandi né pezzi troppo piccoli. Per rispettare la tradizione, per rispettare la tradizione. Per rispettare la tradizione, per rispettare la tradizione. Grazie a tutti. 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 Buon appetito.